Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. A partire da oggi voglio iniziare un nuovo piccolo viaggio con voi, inteso come ovviamente una nuova serie di video che avrà come argomento portante i metodi, la presentazione a voi dei metodi per ottenere una rendita passiva nel mondo delle cripto. Attenzione, non vi voglio propinare truffe o schemi ponzi di nessun tipo e non sono sponsorizzazioni di nessun tipo, semplicemente vi voglio mostrare le possibilità, perché il mondo cripto ci offre tantissime possibilità di questo tipo, di ottenere appunto, di maturare un interesse sui nostri fondi che altrimenti sarebbero immobilizzati. Iniziamo questo viaggio parlando oggi delle piattaforme di DeFi, che sta per Decentralized Finance, che è un mondo che vi presenterò e sono sicuro che vi stuzzicherà tantissimo, perché a mio parere è quello che sarà il nuovo grandissimo trend del mondo delle criptovalute, che è già iniziato da un pezzo, è in grandissima crescita e c'è tantissimo interesse puntato su di esso. Quindi, mi raccomando, seguite con attenzione questo video perché sarà interessante. Prima di iniziare andare nel sodo, però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, così mi gasate, mi incentivate sempre a continuare a produrre video sempre di maggior qualità. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate anche la campanellina importantissimo perché così ricevete le notifiche quando io pubblico un nuovo video. La velocità è tutto nel mondo delle cripto. Infine, iscrivetevi ai miei canali social, i cui link li trovate nella descrizione. Ora che siamo caldi, iniziamo a parlare di DeFi. Quando si parla di DeFi, che cosa si intende? Allora, DeFi è una parola abbreviata composta che sta per Decentralized Finance, ovvero finanza decentralizzata. Quindi l'erogazione o la possibilità di usufruire, a seconda della parte in cui si sta, di servizi finanziari completamente disintermediati, decentralizzati. Anziché il middleman, l'intermediario, troviamo un software, uno script oppure uno smart contract, che devono avere la caratteristica di non essere governati da un'entità singola. Insomma, la decentralizzazione che noi, amanti della blockchain e delle cripto, dovremmo conoscere. È un nuovo grande trend. Per quale motivo? Perché, se voi osservate i numeri, e tra poco ve li presento, vi renderete conto che l'investimento in questo periodo sta andando tantissimo in quella direzione. Stanno nascendo sempre più startup, sempre più nuovi progetti, che trattano proprio il mondo della DeFi. Inoltre, e anche questi numeri li vedremo tra poco, sempre più fondi sono vincolati, diciamo così, ovvero utilizzati, impegnati, in queste piattaforme di DeFi. E questo è un chiarissimo esempio di come il loro utilizzo è reale e soprattutto crescente. Questo è ciò che mi porta a pensare che sarà il prossimo grande trend. Quindi vale la pena studiarlo innanzitutto, capirlo, essere sul pezzo, non farsi lasciare indietro, ed eventualmente anche investirci sopra. E anche di questo parleremo oggi. Che servizi finanziari si possono trovare in maniera decentralizzata? Prima tipologia di servizio, credito-debito. Quindi è la base della finanza, fondamentalmente. Chi eroga credito a chi ne ha bisogno. Quindi io ho dei fondi depositati da qualche parte, ho dei bitcoin, ho delle cripto, ho delle stable coins addirittura, di cui non so cosa farmene, perché sono lì immobilizzate e depositate in un wallet. Piuttosto che tenerle lì, le offro a credito, a terzi. E in cambio, ovviamente, riceverò un piccolo interesse. Decentralizzare questo permette di ottimizzarne l'efficienza, perché colui che chiede il credito, ovvero il borrower, pagherà meno commissioni, in quanto non c'è l'intermediario, non c'è tutto il discorso di gestione. E soprattutto, chi erogherà il credito si intascherà tutte quante le commissioni. Inoltre c'è la sicurezza garantita dallo smart contract, quindi nessuno può interferire su questa linea di credito. Numero due, gli strumenti derivati. Esiste già un exchange, e tra poco ve lo mostrerò, di strumenti derivati sulle criptovalute. E non solo, perché è possibile, come vedremo tra poco, anche tokenizzare asset esterni. E molti stanno lavorando proprio in questa direzione. Tra l'altro, questo exchange che vi presenterò tra poco, è uno di quei progetti il cui valore sta crescendo nella maniera più veloce, in assoluto, nel mondo della DeFi. Perché ha anche un token proprietario. Numero tre, l'exchange, il DEX. È una cosa già vista, già sentita, che già conosciamo. E mette in comunicazione acquirente e venditore di un bene tokenizzato. È la base, secondo me, dell'economia. Assieme appunto al credito e al debito, qua abbiamo lo scambio. E anche questa è un'ottima applicazione. Numero quattro, sistemi di pagamento. Mi viene da dire Lightning Network, che sicuramente conoscerete. Insomma, strati aggiuntivi alla blockchain, volti a snellirla, a semplificarla e a velocizzarla, per utilizzarli proprio come sistema di pagamento. Lo scopo deve essere quello. È decentralizzato proprio perché appunto devono esserci diversi nodi e funzionare in modo da non dare controllo mai a nessuna entità in particolare. Ultima cosa che è legata al discorso dei derivati è l'asset management, ovvero la possibilità di gestire asset in maniera tokenizzata, cioè trasportarli su blockchain, immaginiamoci questo salto, e poi scambiarli su DEX. Questo è un passo molto lungo, del quale siamo soltanto all'inizio, perché il grosso problema è come collateralizzare quel token che si mette sulla blockchain. Ovvero, se io voglio vendere casa mia e tokenizzarla, deve esserci ovviamente il collaterale dietro al token, ed è questo il grosso problema. Adesso andiamo invece al sodo, ovvero com'è che si guadagna con le piattaforme di DeFi? Come ci si deve interfacciare per ottenere questa famosa rendita passiva? Chiaramente il primo metodo che ci verrà in mente è quello di interagire con le piattaforme stesse. Abbiamo elencato diversi utilizzi che queste ultime hanno, quindi porci come erogatori di questi servizi, addirittura anche come utilizzatori, ci può portare un guadagno. Facciamo qualche esempio concreto. Abbiamo parlato di credito e debito. Quindi, se io mi pongo lato erogazione, in questo caso, supponiamo che ho dei fondi fermi, vincolati da qualche parte, perché io sono un holder di Bitcoin, piuttosto che ho delle stable coins ferme da qualche parte, o anche semplicemente io voglio utilizzare una porzione del mio portafoglio per ottenere questa tipologia di rendita, e quindi la converto in stable coins e la uso in questo modo, posso appunto erogare credito e guadagnarci l'interesse. Questo è un metodo molto semplice, molto basilare, tramite il quale a relativamente basso rischio si può ottenere un discreto rendimento. Si parla di rendimenti che vanno dal 6-7 fino anche al 10-11% l'anno, attenzione, è un rendimento annualizzato. La maggioranza di queste piattaforme paga giornalmente l'interesse, quindi è ottimo, perché poi si va a creare un interesse composto a tutti gli effetti, ma annualizzato appunto si ottiene una cifra di questo tipo. Si può utilizzare gli exchange di derivati o prodotti o asset, insomma, per fare semplicemente trading, questo lo dovremmo conoscere già. Si può utilizzare i sistemi di pagamento anche lato provider, anche in questo caso, quindi andare a erogare il servizio. Di nuovo, se noi creiamo un nodo di Lightning Network, noi riceviamo le fees che vengono pagate da chi utilizza il nostro nodo. Ovviamente, in questo caso, visto il relativamente scarso, ahimè, utilizzo di Lightning Network e la quantità abbastanza alta relativamente all'utilizzo di nodi a disposizione, il guadagno è estremamente ridotto. Si parla, possiamo fare una stima di, secondo me, 50-100 euro l'anno per un nodo Always On e visto che comunque c'è un costo di energia elettrica e di bandwidth, di banda, non ne vale la pena, mio personalissimo parere. Si supporta ovviamente la rete, ben venga, però ci sono metodi molto migliori, lato proprio remunerativo. L'altro metodo è l'acquisto dei token, dei progetti che ci sembrano più promettenti del settore. Molti di questi progetti hanno un token proprietario e questa è un'ottima cosa perché ci permette di investire in essi. A cosa servono questi token? Allora, il problema principale del mondo della DeFi è la liquidità, cioè serve liquidità affinché possa funzionare. Serve che qualcuno eroghi credito, serve che nei DEX ci siano gli asset da scambiare, servono appunto liquidi, serve liquidità. E per un modo che molte piattaforme fanno per averne di liquidità è erogare il loro token, venderlo e poi dare ovviamente un incentivo all'acquirente di acquistare questo token, al pubblico di investire in questo token, investire nel progetto tramite il token. Il token dà due benefici, infatti io li avevo segnati come due punti separati ma a questo punto ne parlo insieme. Cioè il primo ovviamente che il token è legato dalla legge della domanda e l'offerta al valore del progetto dal quale è stato erogato. Quindi riuscire a beccare quei progetti, quelle gemme su cui si proietta una forte crescita futura, ci assicureremo la possibilità di crescita di valore del token e quindi appunto il classico investimento. Lato numero due, invece molti di questi progetti utilizzano un modello di staking per garantire un ulteriore interesse passivo all'acquirente. Quindi ritorniamo al discorso rendita passiva anche qui, c'è anche questo modo di ottenerla dai progetti di DeFi, ovvero acquistare i token di alcuni di essi, fare staking, tenerli lì e in questo modo ricevere una parte delle fees che vengono pagate dagli utenti di queste piattaforme sotto forma di dividendi, perché sono tutti servizi che comunque garantiscono alla piattaforma un'entrata più o meno costante, essendo servizi a fee e la piattaforma, la maggioranza di queste piattaforme, versa la maggioranza di nuovo di queste fees che riceve agli investitori tramite appunto lo staking. In questo modo crea un modello estremamente efficiente di valorizzazione dei loro token e danno due motivi. anziché uno per acquistarli e detenerli nel tempo, ovviamente data alla base la validità del progetto. La domanda quindi finale, diciamo così, è questa. Quali sono i migliori progetti di DeFi? Quali che vale la pena utilizzare, seguire, su cui vale la pena investire? Vediamoli. Su questo sito, DeFi Pulse, vedete l'andamento globale, diciamo così, delle principali applicazioni di DeFi. O DEPS perché si tratta di applicazioni decentralizzate. Qua sopra sono incluse soltanto quelle. È interessante vedere innanzitutto l'andamento nel tempo del controvalore in dollari che è riservato, cioè bloccato all'interno di queste DEPS, degli smart contracts o degli script di queste applicazioni di DeFi, che vedete che mostra questo trend crescente ormai da un anno abbondante. Inoltre potete vedere nel dettaglio quanto controvalore c'è bloccato in ognuna di esse, a che categoria appartiene e vedere un po' la variazione nel tempo. Inoltre, cosa molto interessante e soprattutto utile a chi sta approcciando per la prima volta questo mondo, cliccando ogni applicazione potete vedere una descrizione molto, diciamo così, molto sintetica di tutti i dati principali, quindi un po' ciò che c'è da sapere a riguardo di essa, nonché il suo website dove si può poi eventualmente approfondire. Vi rimando ovviamente a questo sito che vi lascio magari nel primo commento così per farvi accedere più facilmente e vi presento quelle che secondo me sono le migliori applicazioni di questo tipo. Allora, partiamo con le applicazioni di credito e debito. Compound. Compound.finance è il sito, è una DEP, quindi un'applicazione decentralizzata, che utilizzando un wallet come può essere MetaMask o addirittura anche il Ledger tramite il browser Brave, insomma vi permette di depositare i vostri fondi nel suo smart contract e di iniziare ad accumulare interesse grazie appunto all'erogazione del credito a terzi in maniera decentralizzata. Tra l'altro recentemente molti wallet come Coinbase Wallet o Aid Wallet hanno implementato la possibilità direttamente dalla loro applicazione con un click veramente velocissimo di inviare subito i vostri fondi. È una roba di una semplicità disarmante. Se poi vorrete vedere di più faremo un tutorial step by step in futuro su come utilizzarla. Qua vedete si possono prestare queste coin, la più interessante sicuramente è DAI perché non abbiamo appunto il rischio di volatilità, di fluttuazione. DAI è una stable coin che rimane bene o male sempre intorno al dollaro, è vero un po' varia però solitamente non troppo, il suo scopo è proprio quello e ci garantisce, vedete, un interesse ad oggi perché poi è variabile nel tempo in base a domande e offerta, del 7.3% annualizzato che è un ottimo interesse. Vedete non è l'unica coin prestabile ma per ovvi motivi è una di quelle per le quali c'è più mercato. Synthetix è l'exchange che vi dicevo di prodotti derivati. Qua sopra si può fare trading, incredibile ma è così, non vi spiego esattamente come tecnicamente, magari approfondiremo anche questo perché ci vorrebbe veramente del tempo, ma è possibile fare trading di prodotti sintetici, da qui il nome, tokenizzati, che possono essere operatività in leva, quindi delle sorte di futures tokenizzati su bitcoin, su ether, su bnb, delle stable coin legate alle monete fiat, commodity, l'oro, l'argento, quindi vedete è un qualcosa che si riteneva incredibile che passo dopo passo diventa realtà. Sono in arrivo le leve, vedete è un mondo veramente in crescita fortissima. Anche in questo caso si può ricevere una ricompensa tramite il loro token facendo un lavoro di staking, quindi le fees dell'exchange vengono intascate dagli stakers del token, non a caso questo token vedrete ha avuto un andamento fuori di testa nell'ultimo periodo. Un'altra piattaforma interessante per questi due motivi, quindi l'utilizzo e lo staking, è Nexo. Attenzione, è centralizzata in questo caso, cioè è un portale che fa il lavoro per voi di usare gli strumenti di DeFi, quindi voi depositate i fondi su Nexo e Nexo poi fa il resto del lavoro, ovvero eroga credito e voi ricevete però l'interesse. Le cose positive, nonostante sia centralizzato e sicuramente qualcuno di voi mi sta già scagliando fulmini, è che innanzitutto si ottiene l'8% di interesse annualizzato, che è un'ottima cifra. Si può ottenere l'8% di interesse sia sulla moneta fiat, magari ci interessa meno, ma anche sulle stable coins come USDT, DAI, USDC e sempre dell'8%, quindi appunto senza il pensiero della volatilità delle medesime. La cosa ancora più bella è che c'è un'assicurazione sui fondi depositati su Nexo che ammonta a un massimale di 100.000 dollari per utente, quindi questa è una sicurezza in più molto interessante. Nexo ha anche il suo token che garantisce un dividendo agli holder. Parlando di token, poi terminiamo, c'è una sezione bellissima di CoinMarketCap, interest.coinmarketcap.com, mi si scarica il mouse, che vi fa vedere, vedete tutti i possibili portali e tutti gli interessi racimolabili dal prestito di cripto. Quindi questo è un portale comodissimo, vi dice se è centralizzato oppure no, io ho selezionato DAI adesso, e vedete che Compound ci dà lo stesso tasso che abbiamo visto sulla piattaforma. Ci sono anche quelle centralizzate come Nexo o anche Crypto.com, Nexo ha dal lato suo l'assicurazione, il che mi dà una garanzia in più, essendo centralizzata c'è sempre il rischio legato all'entità stessa. Quindi avere un'assicurazione male non è. Synthetix, guardate che andamento ha avuto il suo token, nonostante i volumi siano ancora relativamente bassi, è una piattaforma relativamente poco conosciuta, sicuramente ora è iperesteso, quindi va seguito e tutto quanto, ma per farvi capire quanto potenziale ci può essere, con un modello efficiente come il providing di liquidità e la garanzia di dividendi agli holder del token. Cioè qui veramente chi riesce ad arrivare presto ha vinto, perché oltre all'apprezzamento del token, ha i dividendi nel tempo, tra l'altro su Synthetix vengono pagati nel token stesso. Nexo non ha ancora avuto quella fiammata lì, però appunto ha un modello molto simile. Non vi sto dicendo comprate Nexo, però tenete d'occhio questo settore, perché davvero c'è un potenziale pazzesco secondo me, sarà il prossimo grande trend. Allora, vi è interessato questo primo episodio del mondo delle rendite passive? Vi è interessato il mondo della DeFi? Utilizzerete queste piattaforme? Cosa ne pensate? Ditemi davvero quello che volete, così ne parliamo nei commenti. Ragazzi, alla prossima, è sempre un piacere. Ciao!